Musica Con la pandemia anche il mercato del credito ha subito profonde mutazioni e proprio questi cambiamenti e le prospettive future di accesso al credito per artigiani e piccole e medie imprese sono state al centro dell'annuale convention di FedArt Fidi, la federazione nazionale che era un gruppo e confidi delle associazioni artigiane, confartigianato, CNA e case artigiani Durante la pandemia l'intervento massiccio dello Stato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia ha fatto sì che il problema che si poteva creare di credit crunch relativamente a un crollo a una chiusura totale dei mercati è stato molto attenuato indubbiamente è una situazione che deve essere per un periodo estremamente straordinario non è un intervento che può diventare congiunturale e poi anche a livello del mercato del credito occorre riequilibrare un po' gli utili e anche diciamo sì le perdite comunque non si può pensare che tutto il mercato del credito o gli attori del mercato del credito possono indubbiamente incorporare gli utili e socializzare le perdite quindi la visione, lo sguardo appunto è stato quello, lo sguardo alle imprese le imprese sono i soci dei confidi a livello di federazione si contano più di 600.000 aziende soci Da qui la richiesta di Federtfidi di tracciare insieme alle istituzioni le direzioni di una riforma normativa che fornisca al sistema dei confidi un vero riconoscimento legislativo Deve continuare un intervento massiccio sia della garanzia pubblica ma anche quella privata su quelle aziende che come sapete ci parla di ripresa ma la ripresa ancora è a macchia di leopardo ci sono aziende che hanno sofferto di più in questo anno e mezzo chi ancora sta continuando a soffrire e in quel caso lì bisognerà continuare a accompagnarle Poi pensando un po' anche a medio e lungo termine La criticità strutturale che hanno le aziende italiane ma specialmente le micro e piccole imprese è quella della mancanza di patrimonializzazione da una parte e di essere troppo vincolata e credito bancario dall'altra Noi abbiamo fatto agli onorevoli, a senatori, al ministro presente alla convention delle proposte in merito al fatto che si possa indubbiamente intervenire anche su queste due lagune strutturali delle aziende i prodotti ci sono però non sono dimensionati alle strutture delle nostre aziende Altro capitolo riguarda il ruolo delle regioni e le azioni che questi hanno messo in campo per progettare e intercettare interventi a sostegno delle piccole e medie imprese Sono rimasto un po' sorpreso perché rispetto a una posizione d'avanguardia che la regione toscana ha sempre avuto nel vedere e nel avere anche delle visioni diciamo sì rispetto a questo problema dell'accesso al credito delle aziende l'ultimo anno e mezzo bisogna dire la verità e questo problema è uscito proprio dall'agenda di politica della regione quindi mi aspetto indubbiamente che con l'inizio del 2022 il tutto venga riacceso e la nostra regione ritorne all'avanguardia il tutto venga riacceso e la nostra regione il tutto venga riacceso e la nostra regione